.... lovers non sei capito gianna gianna non sei se tu ci vuole ah il capo è cabbo con me è simile in gianpaio in gianpaio ehm dai simile in gianpaio ma voi non riguardi cazzo non la guardate dai... non è... non è... non è... ora vanno ad aprire gli occhi mette voi teh eeeeeeeeeh ... non lo guardate mette voi questa è la palestra che si fa ma poi questa è la palestra si mi lascia ancora fa ma no bisco ahahahh No, no, no! Stai, 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 stai... Fa scudo, devi stare, ma non faccio. Arremoto? Si sa, tiro. Beh, wow. E' bellissima! e' andata e' andata e' la? e' andata e' la? e' riuscita bene però c'è l'unico problemino che io non ho finito a tirare comunque viviamo